Avete vissuto anche il momento del cambio d'allenatore, perché insomma la società, è venuta a dircelo anche Carmine Gorrasi che era stato qui, voleva davvero non lasciare nulla di intentato, in quel momento in cui effettivamente avete pasticciato qualcosina. Come è stato, come avete vissuto dallo spogliatoio quel momento nel passaggio d'allenatore? Quando c'è un esonero, beh, non è mai facile, però il mister non lo conoscevo che è arrivato a Civeriati, ci ha dato una grossa mano, un mister molto preparato, ha iniziato subito a lavorare sulla sua mentalità, che è una mentalità offensiva, di cercare di andare a prenderli alti e penso tutti siamo riusciti subito a seguire il suo modo di pensare, il modo di fare calcio. Da allenatore ad allenatore, perché insomma quella famosa partita di Sorbiate Arno ha visto protagonisti i vostri due allenatori. Antonelli appunto Civeriati che a fine partita, anzi a fine dei 20 minuti di partita, si sono incontrati così. Li vediamo foto, PH di Moreno, insomma era giornata che comunque positiva, perché insomma c'era davvero tanto piacere a ritrovarsi a giocare a questa partita, un allenatore che ha tanta fiducia all'Union Villa Cassano e per far crescere un gruppo di giovani è proprio quello che ci vuole. Lui è un mister per giovani, adatto per lavorare con i giovani, ha avuto questa proposta di lavorare con un gruppo di giovani e l'ha accettata con tranquillità, ben sapendo che non sarebbe stato facile in un girone come quello di quest'anno, come diceva pure anche prima Andrea, con tanti pretendenti.